Presidente, vorrei segnalarle che io non sono cambiato, io non sono cambiato. Ringrazio il gruppo politico per avermi lasciato libero, perché sì, io in Forza Italia sono libero ed invito i miei ex colleghi Movimento 5 Stelle a fare come me, abbandonare l'aula. Grazie. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge già approvata in un testo unificato dal Senato numero 1309. Modifica il codice penale e altre disposizioni materiali legittime di difesa. La votazione è aperta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.